Ciao a tutti, siamo Alios e Samuele e oggi siamo qui per farvi vedere come funziona la costruzione delle bombe di semi. Prendiamo dell'argilla naturale, la versiamo in un contenitore, in tre parti, questa era già stata misurata, poi bagniamo con dell'acqua, aggiungiamo una parte di terriccio arricchito con dell'humus. Abbiamo selezionato tre tipi diversi di semi, i semi potete scegliere quelli che volete voi, a vostro gradimento, fiori oppure verdure. Mescoliamo e creiamo delle palline che potrete anche colorare con dei colori vegetali e la cosa più divertente alla fine quando si saranno seccate potrete andare in qualsiasi posto della vostra città, in qualche parco e potrete lanciarle in giro con amici, i vostri figli, così vedrete il risultato di quello che può fare la magia della natura. Grazie a tutti. Grazie.